E' un ragazzo che si diverte con i suoi amici. Dobbiamo aiutarla. Andiamo a cercare il tesoro. Leonardo da Vinci, portatemelo qui. Troppo! Catturate anche Leo. Sei finito. E lui chi è? Si chiama Niccolò e con questo coso osserva le stelle. Mi manchiamo, ci guardiamo, ridiamo e ci fermiamo. E poi dita sulla bocca, poi mi blocca lontiamo. E quando ti ho vicino e per il tempo intorno, soveggi tutto quello che... Volo! Sì, ce l'ho fatta! Leo da Vinci, missione Mona Lisa.